Il dibattito sulla liberalizzazione della cannabis, un tema attuale che si ripresenta periodicamente nelle agende dei governi. Ma quanto sappiamo di questa pianta e dei suoi principi attivi? Come interagisce con l'organismo? Quali sono gli effetti sulla salute, sull'attenzione e sui riflessi? Di tutto questo se ne è parlato all'incontro scientificamente stupefacente l'Unione Europea e la Cannabis, organizzato al Rettorato dell'Università di Siena da parte del Centro di Informazione Europe Direct dell'Ateneo. Tra i relatori il professor Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda Ospedaliero Universitaria Senese, che ha parlato di cannabis e alcol analizzando le differenze tra consumo e abuso. Oltre a lui Carla Gambarana, ricercatrice dell'Università degli Studi di Siena all'interno del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, che ha analizzato il rapporto tra cittadini e cannabis. Ed anche Enzo Tarquini, dirigente della squadra mobile della Polizia di Stato di Siena, che ha parlato delle operazioni delle fiamme oro in Italia e in Europa in materia di cannabis. Ascoltiamo in ordine Fagiolini, Gambarana e Tarquini. Purtroppo la distinzione tra uso e abuso è molto labile e la labilità dipende anche da caratteristiche delle quali spesso le stesse persone non sono consapevoli, perché la cannabis in una persona che non sia predisposta a sviluppare malattie mentali o comunque sviluppare altre malattie può essere probabilmente definita a ragione una droga leggera, ma la cannabis utilizzata in qualcuno che è predisposto ad esempio a malattie mentali e che essendo una predisposizione può non saperlo, è veramente una bomba, una potenziale bomba che può aprire la strada per malattie gravissime che non sempre poi tornano indietro quando uno smette di usare la droga. Stesso discorso per l'alcol, anche se l'alcol è un po' meno pericoloso in termini di scatenare malattie come psicosi, come schizofrenia, un po' più pericoloso in termini di rischio fisico essendo associato a una serie enorme di malattie che vanno dai tumori alle malattie cardiovascolari, nonché essendo associato anche a una serie di altri eventi come per esempio incidenti automobilistici, distruzione di relazioni o altro. Quindi per quanto siano percepite come droghe leggere, in realtà sono leggere solo per una minima percentuale di persone. Per molte persone sono droghe devastanti e bisogna che questo venga saputo, perché io ritengo che sia giusto che ognuno sia libero di autodeterminarsi, però è un nostro dovere informare le persone su quelli che sono i rischi di questa che potrebbe sembrare una moda, potrebbe sembrare una cosa moderna, ma invece è una scelta che tutto è meno che bella, meno che moderna, meno che capace di conferire chissà quali caratteristiche a chi usa queste sostanze. Ci sono delle differenze in termini di concentrazione di principi attivi, per cui anche le differenze sul comportamento saranno diverse. Quella che viene normalmente definita cannabis light deve avere un contenuto nel principio attivo cannabinoide, delta 9 tetraidrocannabinolo, che stia al di sotto dello 0,6%, per cui gli effetti cannabinoidi sul comportamento con la cannabis light in teoria dovrebbero essere estremamente scarsi, teoricamente nulli, poi siccome siamo uno diverso dall'altro, con un metabolismo diverso dall'altro, i preparati non sono tutti uguali, non si può essere così certi, però dovrebbero essere trascurabili. Mentre nella cannabis utilizzata a scopo ricreazionale le concentrazioni di delta 9 tetraidrocannabinolo sono indubbiamente più elevate e quindi ci sono gli effetti, altrimenti non verrebbe fumata, viene utilizzata perché ha degli effetti psicoattivi. C'è un'elevatissima sensibilità da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza a livello locale del questore e facciamo molta attività informativa presso gli istituti scolastici che per noi sono comunque presidi educativi per eccellenza e abbiniamo anche ad un aspetto repressivo attraverso l'impiego di unità cinofile che nel corso degli ultimi anni ci stanno sempre di più richiedendo i dirigenti scolastici degli istituti superiori perché effettivamente è un tema abbastanza sentito sia per gli studenti, per i ragazzi che per le famiglie e devo dire che recentemente ogni volta che andiamo all'interno di istituti attraverso unità cinofile troviamo comunque sostanza stupefacente. Il nostro obiettivo è quello fondamentalmente preventivo ed educativo su un consumo e un abuso che poi l'esperienza ci dimostra ben può avere delle conseguenze molto gravi per la salute e il benessere dei minori. A fare un'analisi dettagliata dei cannabinoidi Giuseppe Montefrancesco responsabile dell'unità operativa di prevenzione delle dipendenze dell'azienda USL Toscana Sud-Est. Prima di tutto i cannabinoidi sono tanti, hanno diversa provenienza, seppure tutti agiscono sullo stesso sistema endogeno che noi abbiamo, cioè il sistema degli endocannabinoidi. Quindi vi sono cannabinoidi, noi siamo pieni di marijuana si potrebbe dire, passatemi questo, quindi sono gli endocannabinoidi, i fitocannabinoidi e i cannabinoidi sintetici. Il problema con tutti i cannabinoidi è che c'è una gran confusione intorno, vanno spiegati, va spiegata l'origine, come agiscono soprattutto, perché poi in realtà tutta la storia si gira intorno ad un meccanismo, quello del cannabinoidi endogeno, su cui poi riparano o agiscono gli altri cannabinoidi. Quindi il problema fondamentale è spiegare come agiscono questi vari e diversi endocannabinoidi. Per il centro Europe Direct dell'Università di Siena si è trattato di un momento molto importante di confronto e formazione, come spiega il responsabile scientifico di Europe Direct Massimiliano Montini. Europe Direct è un centro di informazione e di formazione sui temi dell'Unione Europea, è un progetto finanziato direttamente dalle istituzioni europee che nel nostro caso è presso l'Università, perché Europe Direct è una rete di centri in Europa, ne conta centinaia, che però sono posizionati spesso in enti pubblici. Nel nostro caso è presso l'Università, questo è un vantaggio perché riusciamo ad unire l'attività di informazione per i cittadini con quella propriamente di corsi e attività di formazione specifica. L'iniziativa di oggi si lega a una nuova iniziativa che è partita quest'anno di ampliare l'offerta delle nostre attività non solo alle aree tradizionalmente delle scienze sociali, ma all'area medica e quindi oggi lanciamo appunto questa iniziativa, abbiamo fatto altre iniziative su sport e salute e questo va in questa ottica dell'allargamento dell'informazione sui temi europei.